Il ritiro a San Giovanni Rotondo si concluderà venerdì con il terzo ed ultimo test amichevole della permanenza nella città di San Pio. Le preoccupazioni per la Fidelis riguardano però il successivo ritorno ad Andria alla luce dell'attuale situazione relativa alle strutture sportive. La cosa che ci preoccupa veramente è quando scendiamo giù, che sinceramente è una situazione critica, 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 a parte il discorso di Andria, ma credo che sia una situazione critica in tutta la Puglia, tutto nel sud per queste strutture che sinceramente sono stato un paio di giorni a girare le strutture sportive per trovare una parte dove potevamo allenarci e sinceramente ho visto delle strutture fuori dal normale, terreni di gioco improponibili, veramente usurati e credo che in generale tutte le amministrazioni veramente devono tenere presente queste situazioni e credo che dovrebbero veramente dare la possibilità alle società che fanno tanti sacrifici, che ci mettono passione, tempo e soldi anche per, almeno devono avere il piacere di avere la propria squadra, allenarsi sul proprio campo, nella propria città e cercare di, anche per i giovani, per cercare di dare la possibilità ai giovani di crescere. Capitolo mercato, sono arrivati elementi di spessore in tutti i reparti, Fontana e Porcaro in difesa, Prinari e Manzo in mezzo al campo, Cristaldi e Mini Incleri nell'assortimento offensivo, altri, garantisce il DS Riccardo Di Bari, ne arriveranno. Se abbiamo delle risorse magari non rispetto ad altre squadre che competono a vincere il campionato, però io credo che il calcio si può fare anche con delle risorse giuste, facendo le cose giuste e anche raggiungendo gli obiettivi anche di calciatori importanti, con dei giusti costi. Noi stiamo mettendo su una squadra che possa soddisfare le esigenze della società, del pubblico, della gente. Vogliamo riportare un po' di entusiasmo alla città, ai nostri tifosi e soprattutto cercare di soffrire il meno possibile per cercare di mettere delle basi per guardare un discorso a lunga durata. Dobbiamo completarlo ancora. Oggi appena da qualche ora si sono aperti l'ufficialità dei trasferimenti dei professionisti. Adesso ci organizziamo, dovremo fare il trasferimento dalla Paganese alla Fidelissante del portiere Anatrella. Far i puntati dunque soprattutto sul Parco Portieri. Con l'apertura del mercato dei professionisti presto verrà ufficializzato Dario Anatrella, classe 2001 ex Paganese. Il suo coetaneo Matteo Segantini invece è presente a San Giovanni Rotondo ma non rientra nei piani della Fideliss. Stiamo valutando di prendere un altro portiere. Segantini è in uscita in questo momento. È un giocatore che è giusto che magari cambia aria. In questo momento è un giocatore in uscita per noi Segantini. Stiamo cercando di completare anche il reparto dei portieri.